Io ho scelto cannella Eh sì, si vede subito chi sceglie patasnella La prima originale patatina fritta che cuoce in forno Ancora più buona e più leggera Patasnella, se la provi, ti innamori Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate Parmareggio, un capolavoro delle colline miliane Eh, il parmigiano non è mica tutto uguale Parola d'intenditore, che va matto per lo stagionato 30 mesi Parmareggio, parmigiano reggiano, da intenditori Kiss me, take a little time to smile and tell me things Things are gonna make me feel like I'm the only one that you desire M.S.C. Crociere, sua vita sul mare Oggi sei libero Parli e mandi sms a 6 centesimi, libero da vincoli, libero da tasse, libero da costi fissi Abbonati subito Amo, sei libero Aspetta, fammo chiararmi ste prima Life is now Vodafone La nostra vita È tutta nelle nostre mani Il valore di quello che facciamo lo teniamo stretto nelle nostre mani Monini, una spremuta di olive Scopri un mondo sorprendente Pistacchio Mandorla Nocciola Dall'arte pasticcera Ferrero Ferrero Garden Nuovi Ferrero Garden Il giardino delle delizie Fresco Cremoso Il piacere di Philadelphia È così unico Che ogni volta è come la prima Prova il nuovo Philadelphia Balance Ricco di calcio Per sentirsi vitali con gusto Ho saputo da quella iena del primo piano Che i simpaticoni del terzo Di Telefono e di Inter Spendono meno di noi Sì, questo lo credono loro Ma fra un mese e due Alice non fa sorprese Come sei bella Vestita da belifagore Quella bestia va eliminata e al più presto Sta diventando una psicosi Tutti hanno paura del luto Se un lupo ti morde può venire l'alicantropia Voglio denunciare quest'uomo per braconaggio San Maria Cosa è successo? Giacomo è morto Lei ci tiene molto Francesca, vero? È una ragazza che conosco da tempo E che ora è in difficoltà Sto capitano Eh Ma che è schiuma quella? Mi stavo facendo la doccia È andata via l'acqua Vestito Ma Questa strana Don Matteo vi dà appuntamento a Giovedì 6 marzo Pronto? Giulio, stai vedendo Sanremo? No, sto facendo la maglia Ah Ma poi Sanremo è sempre la stessa surfa Può dire a me San Francisco Ah, la tour Massimo Ma me state boicottando il festival Ma che è di poi? Ma che stai sentito? Eh, vi ho sentito sì A profitto della pausa Per entrare nel vostro provo E annunciare che l'8 marzo Ci sarà il ritorno del trio No, adesso non ci poteva dire È una sorpresa Ah, ma siete sicuri di questo ritorno? Sì Abbastanza Un'operazione rischiosa Dove ha di pensarci prima Il ritorno del trio Da sabato 8 marzo Rai 1 Acqua Cadabra Vedo le tre ditti lete Acqua Lete L'effervescente naturale del benessere Tante virtù Poco sodio La mamma dice sempre La colazione è importante Deve essere un nutriente Con il buono del latte E la vitalità della frutta Che barba! Ma adesso la colazione cresce sugli alberi E c'è Kinder Frutti Wow, morbida Con un ripieno al latte E la confettura extra di pesche In una finestra quadrata Mmm Kinder Frutti La colazione cresce sugli alberi Con meno di 100 calorie Eh sì Si vede subito chi sceglie patasnella La prima originale patatina fritta Che cuoce in forno Ancora più buona E più leggera Patasnella Se la provi Ti innamori Da Pizzoli Lo specialista italiano delle patate Sentiamo adesso un altro ascoltatore Fabrizio De Genova Ciao Fabrizio Lavorare si deve Però se ti piace è meglio, no? E fai un Ag per Chiara? Io ce l'ho fatta Amavo la musica Parlare con la gente E adesso è il mio lavoro Ag è stata una vera scoperta A me il caffè piace un sacco E con Ag me lo bevo anche a quest'ora Buono Caffè Ag Il piacere di un gran caffè Ogni volta che vuoi E oggi Con Ag Espresso Cialde Basta un gesto Per il piacere dell'espresso a casa tua Ogni momento può essere splendido Con il grande gruppo assicurativo e finanziario europeo Allianz Con la forza di Allianz Lloyd Adriatico Allianz Ras Allianz Subalpina E Allianz Bank Allianz Soluzioni finanziarie dalla A alla Z Una carenza di magnesio Può causare stati di irritabilità Senso di stanchezza E notti disturbate da crampi Mag 2 Può ristabilire il livello di magnesio Contro i sintomi da carenza di magnesio Mag 2 È un medicinale Leggere attentamente il foglio illustrativo Perché il latte alta qualità Granarolo? Ormai ce ne sono tanti Non tutti i latti sono uguali Qui c'è un filo di differenza Il filo della filiera Granarolo Ci dà un latte nutriente e sicuro È quello della l'olio Da sempre Granarolo fa la differenza Io ho scelto Cannella Siamo come due gocce d'acqua Che ci idrata E rende la pelle più bella Bella come mamma che sceglie Un equilibrio unico di minerali e Oligoelementi Acqua oligo minerale San Benedetto Vita da bere Sei proprio la nostra acqua Proprio sicuro Povero Pietro è morto di morte naturale Pare di sì Ma vai la mia prima inchiesta Ma tu pensa alla coincidenza La mia primissima inchiesta Cominciò e finì proprio qui Forse le coincidenze non sono sempre casuali Maresciallo L'abbiamo trovata in una tasca della sua giacca Per me è una specie di testamento E... Ma che l'arte benedetto Anche ritrovare un vecchio amico a volte può riservare sorprese Allora Starugna Elisa Sparita È proprio un caso difficile maresciallo E lei? E se ricompare? Se ricompare? Quando compare? Il maresciallo Rocca e l'amico d'infanzia Due puntate Lunedì e martedì 21.10 Rai 1 C'è sta capire niente Mio caro Come ti ho già detto a voce La mia fioraia è una ballerina eccezionale Te la raccomando vivamente E ricorda che nel programma Mi esibirò con lei I raccomandati Prossimamente Su Rai 1 MSC Crociere C'è vita sul mare Dall'Istituto Erboristico L'Angelica Il primo dentifricio 100% naturale Con ingredienti da agricoltura biologica L'immaginazione vola Citroen C4 Picasso Il Visio Spass E solo a febbraio Il cambio manuale pilotato è di serie Citroen I monovolume più scelti dalle famiglie italiane Prendi una penna e scrivi Eglia Caro Licaone Non scrive Prendine un'altra Ecco cosa sono le penne all'arrabbiata Siete obsoleti A posto di spennarmi come una guaglia Mandato un SMS Noi Wind SMS 4000 SMS gratis al mese Verso tutti i telefonini Wind Ecco perché non scrive Mi manca il calamaio Maria quanto è cretino Non è mai stato un'aquila Da Wind Dopo i 50 anni Multicentrum Select Vitamine e minerali Per combattere l'invecchiamento Con l'uteina L'antiossidante per gli occhi Gi di forma? Mangia frutta e perdere almeno 5 volte al giorno E che serve? Tipo Bonduelle A di te gustà A doc All'Amiga 3 Al beta carotene E alle fibre A ognuno la sua Vuoi dire che dell'insalata c'è il senso della vita? E che ne so Io sono un bambino Confetto fuori Liquido dentro Vivident Blast E new chewing gum experience Nelsol L'integratore alimentare Per rimanere naturalmente in linea E i risultati si vedono Fidati E specchiaso Per proteggere da luce e aria La bontà sicura del suo latte Parmalat sceglie l'alta tecnologia Tetra Pak Ben sei strati protettivi Nello spessore di un filo d'erba Parmalat sceglie Tetra Pak Perché Tetra Pak Protegge la bontà e l'ambiente Hai voglia di cantare? Canta! L'Italia campione del mondo sta dominando l'incontro La vittoria non può più sfuggire ai nostri ragazzi Che ancora una volta hanno disputato un'entusiasmante partita Amore sono io Non ho il telefonino Mi sono dimenticato la riunione di condominio E mi sa che ci vai tu La Rai è anche tua Vivi con noi gli europei di calcio 2008 E ricordatevi di rinnovare l'abbonamento Entro il 29 febbraio con una piccola sovratassa Torna Affari Tuoi Tornano La delusione L'allegria La tensione Cioè fai ballà o c'è fai piangere? Il coraggio Io rifiuto l'offerta e vado avanti Flavio Insinna conduce Ci sono 250.000 Affari Tuoi Prossimamente su Rai 1 Giochiamo, telefoniamo, vinciamo, gridiamo, piangiamo Questo affari Tuoi Nature Green Color di René Blanche Creato naturalmente per la cura dei tuoi capelli Cosa vuoi di più dalla vita? Un Lucano Amaro Lucano Voglio il meglio Collezione 2008 Venite a scoprirla Da Devani e Devani Vainatuzzi Non rinunciare al piacere della tavola Chilo caldo fu un pasto abbondante Riduce le calorie Da Pulfarma in farmacia Otto punti di vista Oggi scriveremo la storia Hanno sparato il presidente Se pensate di aver visto tutto C'è qualcos'altro qui Guardate di nuovo Sto Torni indietro Che cosa ha visto? Prospettive di un delitto Ho qualcosa per il mal di testa? Certo Il mal di testa non è sempre uguale Quando si fa sentire di più C'è Moment Act Sono medicinali che possono avere effetti indesiderati e anche gravi Mal di testa? È questione di Moment E quando lo senti di più? Di Moment Act Da Angelini L'immaginazione vola Citroen C4 Picasso Il Visio Spass E solo a febbraio Il cambio manuale pilotato è di serie Citroen I monovolume più scelti dalle famiglie italiane Milano Fashion Week Cambio dopo cambio I capelli devono rimanere sempre perfetti Il segreto? Lacca Pantaine Style Con il sistema spray micro fine La tenuta è forte e flessibile Per uno styling che dura a lungo E per capelli sorprendentemente morbidi al tatto Pantaine Style Styling ufficiale Milano Fashion Week Io mi prendo cura della mia pelle in modo naturale con d'oliva E tu? Con i preziosi principi dell'olio d'oliva arricchito con retinolo e vitamina E D'oliva migliora il tono della pelle e attenua visibilmente le rughe D'oliva crema viso In farmacia Trovala Trovala Commissario La so una cosa Io leggo moltissimi romanzi gialli Sono un'appassionata Ma gliela posso dire una cosa? Prego Sinceramente Lei è meglio Ma lei è meglio di me gre, di puerogo Ma quale? Mia madre è uscita per andare a fare la spesa La cameriera stamattina non viene E io sola sono in casa I classici di Salvo Montalbano Domenica alle 21 e 30 La pazienza del ragno Su Rai 1 E' tempo di tornare sull'isola dell'amore Ed incontrare i personaggi che ci hanno emozionato Vivremo i loro nuovi amori Le loro nuove avventure In una nuovissima serie Prossimamente su Rai 1 La favola rosa che ci ha fatto sognare Con nuovi episodi e nuovi personaggi Stiamo per sbarcare A Capri Ha qualcosa per il mal di testa? Certo Il mal di testa non è sempre uguale Quando si fa sentire di più C'è Moment Act Sono medicinali che possono avere effetti indesiderati E anche gravi Mal di testa E' questione di Moment E quando lo senti di più Di Moment Act Da Angelini Confetto fuori Liquido dentro Vivit & Blast E' new chewing gum experience 6 airbag ESP Climatizzatore Impianto Hi-Fi con comandi al volante Motore 1.6 HD Fab 25 km con 1 litro Premio volante d'oro in Germania Nuova Peugeot 308 Premium Nature Efficace Tua a 15.990 euro Con 180 euro al mese 5 anni di garanzia 5 anni di manutenzione Guarda papà Il tuo boxer Intimo Nottingham Amico per la pelle Non è un'unità di garanzia 12 città Tu con la tua quanto ci fai? 6.000 km all'anno Io pure E di assicurazione quanto paghi? 650 euro l'anno Perché tu quanto paghi? 303 euro Impossibile Sì che è possibile, con Sara Free La polizia che paghi in base ai chilometri che fai Meno usi l'auto e meno paghi Ed eviti gli sprechi Appunto, non sprechiamo quest'occasione Venga Signorina Vieni da noi, sfidiamo il tuo preventivo Collezione 2008 Venite a scoprirla Da Devani e Devani, by Natursi Pietro, che cos'è successo la notte del 12 dicembre dell'85? Un corpo c'è! Ma è il nome di una donna Il dolore, la rabbia, l'indignazione Questi se ne vanno liberi M'è sorella è morta e lei mi dice di stare calmo, eh? Giuseppe Fiorello È per noi Pietro Campagna Allora siamo una famiglia distrutta Solo, contro un muro di indifferenza Lo sapevano tutti, chiudevano gli occhi Forte, con la voglia di combattere ancora Grazie La vita rubata, prossimamente su Rai 1 Abbiamo cercato che rezzella tutta la vita La vita che ci hanno rubato Buonasera dal TG1 La borsa di New York perde quasi un punto Nel giorno in cui si sono accavallati il crollo del dollaro ai minimi storici contro l'euro I record di oro e petrolio I dati deludenti sul prodotto interno lordo americano del quarto trimestre E soprattutto l'allarme del presidente della Federal Reserve Sul possibile fallimento di alcune banche L'euro chiude a 1,5214 dollari Livello mai toccato dalla sua introduzione nel 1999 Bush non parla di recessione ma di economia rallentata Per il presidente della Federal Reserve, Ben Anchi L'inflazione tornerà sotto controllo Ma la crisi dei mutui continua Ed è probabile il falimento di alcune banche Anche se non le maggiori Le borse europee chiudono tutte negative Di oltre un punto percentuale Milano meno 1,22% Per finire il petrolio vola 102,97 dollari al barile Il gasolio supera 1,34 euro al litro La politica Siamo il partito del lavoro Dice Veltroni Nel popolo della libertà c'è l'intesa sulle liste Domani Berlusconi presenta il programma E tra Udc e Rosa Bianca accordo vicino Sentiamo Alberto Matano A metà pomeriggio l'accordo sembrava fatto La discussione è ancora aperta Dice in serata Pezzotta Ma Udc e Rosa Bianca sono a un passo Dall'annunciare la lista comune Nel simbolo lo scudo crociato Casini candidato premier E la scritta costituente di centro Domani intanto Berlusconi presenta Il programma del popolo delle libertà 6-7 punti al massimo Sviluppo, rilancio dell'economia Riduzione delle tasse Sicurezza, le priorità Siamo ottimisti Noi dobbiamo ancora cominciare La campagna elettorale Afferma a fini Veltroni col suo pullman Invece tra un po' finisce il carburante Per il leader democratico Oggi tappa nelle marche Domani sarà in Umbria Siamo il partito del lavoro Dice Veltroni Che lancia tre candidati simbolo Oltre all'operaio della Thyssen La dipendente di un call center di Palermo E l'impiegata di un aslo piemontese L'inchiesta sulla morte dei fratellini di Gravina Ciccio e Tore potrebbero essere caduti nel pozzo Nel tentativo di sfuggire al padre È una delle ipotesi al vaglio degli investigatori Mentre per la procura restano valide le accuse contro Filippo Pappalardi Entro sabato il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari Dovrebbe decidere sulla richiesta di scarcerazione presentata dal difensore del padre dei bambini Nel TG1 la compagna di Pappalardi dice Era un ottimo papà Sempre a rischio il processo di pace in Medio Oriente Ai razzi lanciati dai miliziani palestinesi dalla striscia di Gaza Risponde l'aviazione israeliana con raid aerei contro le basi di Hamas In due giorni 30 palestinesi e un israeliano sono rimasti uccisi Il premier israeliano Olmert ribadisce di voler usare la linea dura Il ministro della difesa Barak annuncia che Israele si prepara ad una operazione su vasta scala Nella striscia di Gaza per fermare il lancio di razzi sulla cittadina di Sderò Sono un patrimonio artistico da salvare Cento film italiani scelti da esperti per essere restaurati, protetti e diffusi poi nelle scuole Ce ne parla Maria Rosaria Gianni Un tesoro d'arte, un patrimonio al pari di monumenti e letteratura belli come dipinti creativi quanto il Made in Italy Sono le cento pellicole d'oro fra il 1942 ed il 1978 Selezionate da esperti a nome delle giornate degli autori del cinema Ben sette di Federico Fellini, sei di Visconti, cinque di De Sica e di Rosi Neoralismo e commedia all'italiana, marcord, la dolce vita ma anche ladri di biciclette e choucha Un borghese piccolo piccolo e la grande guerra Ambiente, situazioni e volti per tramandare ai giovani la memoria del nostro cinema Fra tutti quello di Stefania Sandrelli presente con ben cinque film Da divorzio all'italiana a novecento E questo percorso l'ho fatto come volevo io, in libertà Cioè è un fine per essere come sono, per esprimermi così come sono È tutto per questa edizione, più tardi il Tg1 della notte Grazie per averci seguito Buona serata, domani Buona serata, domani Oggi Citroen C3 5 Porte con climatizzatore È tua da 8.950 euro Zero anticipo e paghi da settembre 2008 Ma solo fino al 29 febbraio Nuovo Togo Tabor Tu con quel mizzo in più Acqua Cadabra Vedo le tre ditte lete Acqua lete L'effervescente naturale del benessere Tante virtù, poco sodio Sauna finlandese fare bene solo ai bronchi Per questo noi in Finlandia abbiamo inventato anche caramelle finlandesi Per fare bene anche a gol Chi le ha inventate, eh? Gli svizzeri Chi, di preciso? Ricola Caramelle ricola Naturalmente dalla Svizzera E con tredici erbe Ricola E da oggi tutta la freschezza delle montagne svizzere In ricola erbe alpine Ti sei accorto che quando sei di buon umore lo trasmitti anche agli altri? Succede sempre con la morbida cremosità di Galbi Dalla bontà del latte Nascono mille dolcezze Galbi, la dolcezza Porta dolcezza Mi vedi? Alice, cerca i colori Ogni colore ha una sua virtù Mangia a colori ogni giorno Mi vedi Alice? Oggi cerca un piacere che parte dagli occhi Con la cremosa arancio D'Ezzamore di carota e zucca I colori per vivere meglio D'Ezzamore Findus Sei pronto? Sono pronto Via! Ehi, qual è il tuo sogno? Lei è Vivian Lui è Edward Io ti pagherò perché tu sia i miei commenti Il loro amore, un'icona del cinema di tutti i tempi Posso chiamarti, Eddie? No, se vuoi che ti risponda Che ogni volta torna a emozionarci Deve essere difficile lasciare andare qualcosa di così bello Richard Gere e Giulia Roberts in Pretty Woman Mercoledì alle 21.10 Su Rai 1 Oh! Ha 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 ha!